Il dramma si è consumato sotto gli occhi di tanti automobilisti e residenti della zona impotenti di fronte alla morte di Barbara Monaco, trevigiana 52enne che si trovava a bordo della moto guidata dal marito di 58 anni. Sono circa le 11 sulla Feltrina, i due stanno viaggiando in direzione Montebelluna quando per cause da accertare la moto tampona un'auto, ferma il semaforo poco prima dell'incrocio dell'extrattoria da oro. Frazioni di secondo la due ruote sbanda e invade l'altra corsia di marcia dove sopraggiungono un furgoncino e un'altra auto. La carambola è micidiale con la macchina che prima travolge la moto e poi va a sbattere contro il cancello di un'abitazione abbattendolo. Marito e moglie volano sull'asfalto per Barbara Monaco, è un volo fatale, muore praticamente sul colpo. Io ho visto soltanto la signora per terra che era già deceduta e coperta purtroppo e ho visto che stavano cercando di rianimare il marito e basta poi siamo stati qua in attesa finché loro hanno cercato di avere la sicurezza che lui era insomma in grado di essere caricato in ambulanza. Una volta stabilizzato il marito rimasto cosciente viene ricoverato in pronto soccorso al cafoncello con numerose fratture a portare i primi soccorsi sul luogo della tragedia e i vigili del fuoco che si stavano recando proprio in quel momento a Ponzano per un incendio in un campo. Arrivano poi i sanitari con l'elicottero del SUEM supportato da ambulanza e automedica. Il corpo senza vita della donna resta a terra in attesa del nulla osta del PM mentre la viabilitava letteralmente in tilt in entrambe le direttrici. Barbara lavorava l'intesa a San Paolo, in tanti in queste ore la stanno ricordando sui social, amici e colleghi, questo non ce lo dovevi fare, lasci un immenso vuoto. Il marito rimane ricoverato a Treviso e non è in pericolo di vita, i rilievi sono affidati ai carabinieri di paese.